Ci troviamo a Praga per la Coppa delle Coppe, un'importante manifestazione internazionale. Com'è andato il vostro torneo? Diciamo molto bene, nel senso che per ora siamo ancora in battute. Abbiamo vinto tutte le partite con un buon margine. Insomma, siamo per ora soddisfatte, ma non è finita. Com'è andata la partita contro Jod Sprague? È andata bene, l'abbiamo controllata bene fin dall'inizio. Le due lanciatrici si sono comportate molto bene, hanno controllato l'attacco avversario, che è rimasto a zero fino alla fine. L'attacco ha fatto il resto con un fuoricampo chilometrico di Erika Biancastelli alla fine, che ci ha portato a successo per manifesta. E domani vi aspetta la finale contro Terras Vogels, in bocca al lupo. Viva il lupo e cercheremo di dare il nostro meglio, come abbiamo fatto dall'inizio del torneo e speriamo in bene, insomma.